Se io prendo il mio solito sonnifero prima di andare a dormire, e poi quando mi insurio alle tre, prendo quest'altro? No, no, succede che non si può fare questi farmaci, non si devono sommare. I sonniferi, qui abbiamo la famiglia degli ansiolitici, gli stabilizzatori del tono dell'umore. Eh, ma questo è un tranquillante maggiore, questo è forte, chi lo prende? Chi lo prende questo?